L'arrivo della pioggia salva la Puglia dalla siccità dopo il caldo anomalo di inizio inverno che ha fatto emergere i primi sintomi di stress idrico facendo scattare il campanello d'allarme nelle campagne e quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti Puglia sugli effetti della perturbazione che sta portando precipitazioni intense e anche un brusco abbassamento delle temperature. In maltempo emanna per gli agricoltori, spiega l'associazione agricola, ma per essere di sollievo la pioggia deve durare a lungo, cadere in maniera costante e non troppo intensa mentre i forti temporali soprattutto con precipitazioni violente provocano danni. Importante è precisa la Coldiretti che il cambiamento sia progressivo senza ondate di freddo estremo e gelate improvvise e anche manifestazioni violente che distruggono le coltivazioni e le infrastrutture. Proprio in tema di cambiamenti climatici, insiste la Coldiretti, la gestione delle risorse idriche diventa strategica sia per quanto riguarda la disponibilità di acqua che per il suo utilizzo antispreco. Per questo sono stati ideati sistemi di irrigazione automatizzati e controllati tramite app dell'agricoltore grazie agli smartphone. La maggior parte degli strumenti utilizzati per la svolta tecnologica riguarda la mappatura e il monitoraggio da remoto dei terreni, l'analisi dei fattori ambientali e geologici, il monitoraggio di macchine e attrezzature e la gestione di organizzazione delle risorse idriche.